ciao ragazzi ieri sera vi ho chiesto se preferivate vedere il video spacchettamento empa oggi oppure domani avete risposto oggi quindi mi sono tipo appena svegliata la voce da trance e sto facendo il video quindi non ci facete troppo non ci facete sì non ci fate troppo caso buongiorno fatta sta prima figura di m di prima mattina per farvi capire che effettivamente la sto fatendo appena svegliata quindi devo ancora connettere e capire che sto al mondo io andrei ad aprire questo fantastico pacco empa che ho già spulciato vi devo dire la verità perché ultimamente come vi dicevo sto facendo un sacco di ordini non so neanche cosa sta arrivando quindi ho detto vabbè apro sappiamo che erano dei fanco ma non mi ricordavo di chi allora nella mia curiosità perché si sa che curiosità è donna ho aperto allora andiamo a vedere insieme comunque perché questo è c'è una cosa una chicca che pensavo di aver perso quindi da dan apriamo come al solito il pacco togliamo tutta la carta e qua potete vedere o quasi vediamo facciamo così che ci sono due cosine e una bustina la bustina è una cosa nuova nuovissima che vi tengo per ultima cosa allora prima di tutto vi faccio vedere questo che è un pop spettacolare devo dire la verità non li ho tolti ancora dalla pluriball quindi non so se sono rovinati o meno ma non mi sembrerebbe proprio ed è il pop di demi guise che è quella scimmietta fantastica di animali fantastici dove trovarli io l'ho adorato come film e lei è veramente carinissima mi è dispiaciuto un sacco non riuscire a prendere la versione quella trasparente perché lui per l'appunto diventa trasparente invisibile e se ne va in giro per la città ed è bellissimo lo trovo stratenero e mi piace un sacco qua ci sono tutti gli altri pop che ovviamente non ho perché ho veramente poco niente ho solamente nudes commander e basta e poi l'altro che ho ordinato adesso che vi faccio vedere uno di quelli che mi piacerebbe avere è tanto tanto come sapete io adoro lo snaso quindi lo snaso col borsellino poi vabbè anche il newt con la valigia che a quanto capito era un'esclusiva di qualcosa quindi sarà difficile da trovare a prezzi umani e questo è il demi guise che è bellissimo poi andiamo avanti lo appoggio qua intanto e vi faccio vedere l'altro che è sempre un pop qua vediamo se riuscite a indovinare dal sopra io penso proprio che l'avete già sgamato in pieno anche quando vi ho fatto vedere il retro dell'altra ed è lui il mio fantastico snaso oddio lo adoro cioè tipo bellissimo è uno dei miei personaggi preferiti di animali fantastici cioè è proprio se non l'avete visto andate a vederlo perché merita tantissimo mi è piaciuto molto come film e poi soprattutto c'è lui mi fa morire da ridere lo ho adorato e qua è sempre della stessa serie di quello di prima quindi non ci sono nuovi personaggi da andare a cercare diciamo è bellissima scatola perfetta come l'altro quindi sono stra felice di ciò come vi dicevo è proprio la prima volta che mi succedeva quella cosa ma mi ha sempre mandato scatole fantastiche quindi io veramente non ho niente da dire anzi sono contentissima di questi ultimi due acquisti e adesso vi farei vedere quella bustina strana quella bustina strana è questa che è praticamente un portachiavi nuovo trovate sempre ovviamente su amp che è misterioso quindi è andato a trovare un portachiavi misterioso sempre della della pop quindi vedete poche poche che c'è chi c'è o dei ok o dei buongiorno va bene sì e poi sì è questa la checklist con tutti i personaggi che possiamo trovare qui c'è eri rione silente voldemort eri versione torneo tre maghi poi abbiamo la luna piton eri classico con la bacchetta perché il primo è senza poi c'è dobby questo che mi sembra nevi il pacciocco con sì mi sembra lui con la rana in mano il dissenatore e eri con il maglioncino della signora weasley con la h di harry potter fantastico io non so cosa c'è dentro io provo a palpare ma oddio forse ho capito che cos'è e oddio se è quello sono veramente fortunata perché sapete che è uno dei miei personaggi preferiti andrei ad aprirlo senza tanti né perché e vediamo se è lui e se è lui sono veramente strafortunata no non è lui no non è lui però ho visto nel grigio pensavo fosse il dissenatore quindi non è il dissenatore ah sì oddio è il dissenatore ma è grigetto io me lo aspettavo tutto nero ma che fortuna porca misera bellissimo io lo adoro il dissenatore lo sapete quindi c'è oddio bello bello fatto bene cioè nonostante sia un portachiavi quindi fatto piccolino e tutto è veramente fatto da dio bello mi piace un sacco qua la bocca gli occhi impossati bellissimo quindi ragazzi niente questo sostanzialmente è il mio ordine lo mettiamo tutto insieme così lo vedete tutto insieme c'è ancora un altro pacco perché per chi mi segue su instagram se non lo fate iscrivetevi vi lascio qua sotto il nome e è arrivato un altro pacco quindi erano due e niente ragazzi quindi prossimamente spacchetterò anche quello ma aspetto che mi arrivi un'altra cosa così faccio un diciamo un video unico perché c'è un altro pacco ancora in arrivo sempre della stessa serie di quello e niente ciao ragazzi